Piste ciclabili, nuove di zecca per Fano, indirittura d'arrivo. Questa mattina abbiamo seguito i lavori di posatura del nuovo manto stradale che fungerà da pista ciclabile. Un nuovo agglomerato fatto apposta per le due ruote, di fattura e composizione diversa da quella utilizzata per la careggiata destinata alle automobili. Diversa usura, diverse esigenze, diversa risposta tecnica. Sono queste le piste ciclabili di Fano. È una sensibilità verso la mobilità leggera. Un lavoro di questo tipo la città di Fano non l'aveva mai visto. Stiamo ricostituendo le ciclabili con un materiale stabile, non con la verniciatura come si faceva in alcuni posti in passato ma in pochissimi tratti. È un lavoro importante che evidenzia la pista ciclabile dalla careggiata. Sistemeranno anche i marciapiedi pedonali, quindi veramente è una messa in sicurezza, è una bella risposta a tutto quello che è il tema della mobilità sostenibile. Si parte da Viale Piceno per poi andare ben oltre, per dare a Fano un volto dal sapore smart city che tanto piace ma che necessita di infrastrutture specifiche e che certo per una città fondata dai romani che al più avevano le bighe non è un'operazione da poco. È ovviamente un intervento strutturale nel senso che rimarrà e sarà ben visibile a tutti anche per garantire la sicurezza. È un intervento molto importante, abbiamo sfruttato questo momento dell'asfaltatura anche per dare questo segnale molto importante per le piste ciclabili che continueranno su su fino a Fano in città. Quindi i lavori ancora sono lunghi, dureranno diversi giorni per cui chiediamo anche un po' di pazienza, la careggiata è stata ristretta. Abbiamo già da novembre, dicembre colto questa cosa al volo, questa occasione delle asfaltature proprio per rivedere tutte le ciclabili esistenti e anche alcuni percorsi pedonali perché l'intenzione appunto è quello di andare in quella direzione, di ripristinare e riqualificare quelli esistenti e poi di realizzarne a partire dall'inizio dell'anno nuovo anche tutti quei tratti di ricucitura e di completamento che andranno a formare la rete delle ciclabili di Fano, speriamo presto. Ogni giorno siamo in cantiere per controllare la corretta esecuzione dei lavori, vogliamo specificare che questo che vediamo è un primo manto che serve per ricarica, poi il tratto finito diverrà più livellato e quindi sicuramente senza abballamenti. Abbiamo approfittato di questo progetto per ripristinare anche la sicurezza nei marciapiedi che comunque presentavano buche quindi il lavoro è parallelo sia sulla pista ciclabili che sui marciapiedi.